Ehi laciorno, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Expeditions Rome. Ho solo saccheggiato i tizi e sono andato a interagire con la gabbia per liberare i leoni. Ma non puoi lasciare questi leoni arrabbiati nel mezzo di una città? Speriamo, dice che non succederà niente a nessuno. Ok ce lo teniamo un po', fai quello che vuoi. I leoni sono liberi, hanno affrontato alcuni dei pescari all'interno della costa, ma nessuno è stato ferito. Ok, nessuno è stato ferito. Beh, a parte quelle 12 persone che abbiamo ucciso per liberare... Speriamo che sia abbastanza per vincere il favore della testa sulla testa. Ok... D'accordo, allora torniamo al Tempio di Ubaste. ... Ah, ho trovato della roba nuova, ma niente di eccessione. No, questo non è male. Vai. ... Ah, proprio Metello, vabbè. Ci sta. Ma lei dov'è andata più in fretta di noi o che sia più veloce di me? Eccola qua. C'è una voce proprio stranina comunque. Il suo talento per parlare con i gatti è quasi sopranaturale. Eccola qua. Adesso dici che siete fortunate. Prima c'era Viga Morticone. Ok. Ok. Ottimo. Cosa dobbiamo fare? Quindi, prossima cosa? Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? ... ... Però è vero che Cleopatra potrebbe far impazzire chiunque Per cui potrebbe fare degli errori Ci sta Ottimo, bene Si è lasciata un po' trasportare Ah ma ci butta direttamente dentro l'evento Aspetta che resta con quel dialogo là Meet Cleopatra Non penso che lo farò Posso uscire dalla città Posso uscire dalla città in qualche modo No, no è vietato andarsene Mareo, ma io non volevo fare tutto sto casino adesso Questo è proprio l'erbalista Eh, cosa vendi qui? C'è un po' trasporto? C'è un po' trasporto? Ma alcuni non sembrano Com'è che uno impara delle erbe? Va bene Va bene, sì 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 Posca è una bevanda comune I miei soldati hanno portato molte erbe Per fare posca Questi erbe non sono così comuni, però Non c'è un po' trasporto Non c'è un po' trasporto Non c'è un po' trasporto Non suggerire che ti ingessi, ovviamente Porca, non Potrebbe servirle, M-Block Non ho molto, per te È un poesone potente Qui ti va Non so se mai potrebbe servirci il veleno Questo è una idea davvero brutta Franchamente non so come mi hai capito Perché sono molto affascinante Sì Non so se abbiamo un piano Dovresti agire come Quella che difende il popolo E chi fargli delle domande Ok ah dobbiamo fare delle domande cattive e se non vivi vicino al Nilo allora Serapis non ti benedice il Nilo e l'Egypto non sono una e la stessa tu puoi essere il faro dell'Egypto io sono la regia dell'Egypto vedo cosa vuoi direi ma anche le persone che non hanno visto l'Egypto non vogliono sentire come si spettano in acqua ogni giorno bisogna le persone sul nostro non sulle be kind to your queen people of the Nile after all she spends her life with fun and games at her many feasts she knows little of your plight our ancestor Ptolemy Sauter petitioned and brought Serapis to Alexandria and the old gods made way to accept him recognizing his magnificence ehm è conveniente che solo lui ha sentito che gli antichi dei erano d'accordo and the old gods leave Egypt I think they're still here and they seem unaware of the permission or recognition you are talking about our queen speaks the truth Obasti tolerates Serapis but would never be replaced by him People listen to me the old gods are just that Ah, quindi i nuovi sono migliori. Inizia a sbagliare. D'accordo, andiamoci, ma perché sotto Serapis? Egypto è già unione e forte. È tu che sta guidando un po' tra le loro persone. Lasciamo tornare a nostri ritori. Lasciamo venerare i vecchi di Dio. La Queen è la voce dei nostri ragazzi. Stolbeck non dovrà essere segnato, nemmeno dovrà essere subterbio per Serapis. Non ascoltate alla Queen. La consorzata con i Romani. Noi soltanto sappiamo cosa è meglio per il nostro popolo. Questo è la lingua dei popoli. Che cosa ha fatto con niente? Che cosa ha fatto con niente? I vecchi di Dio dovranno regalare sempre. I figli della Nile, combattono per la nostra Queen! Mi fuori da qui! La mia Queen, dovremmo andare anche. Buona lucka, miei amici. Ti vedo in breve. Scappa. Bene. Allora... qui sono le forze di Toro. Dove sono le forze di Toro mio, più che altro? Queste sono? Beh, Giulia Ok, Giulia è qua Aia Aia Ok, devi ridurli a 6 Adesso ce ne sono 10 Eh, ma è abbastanza facile, dai C'è già gli alleati Li stanno tirando giù come niente Questi tutti con poca vita Ah no, non sono quelle allora Perché ne è morto uno Ma non è cambiato niente Però se sono quali sono solo i seguati di Seraphis Ma non Ma siete scemi? Ma che cavo Ma No, sono quelli 2, 4 6 8 E 2 sul ponte direi Mareus Si, ne l'ho praticamente andato Rai anche Ma che cavolo Giulia puoi curarla No Tu puoi curarla No Chi può curarla Solo lui Allora Giulia Calida Vai qua Per favore Quello ce l'ho scudo Allora Vai qua Quello non lo vede No Vai qua Non ho visto che c'era quell'altro Ottimo, bravo Lei ne ha secati 2 Però qua Cavolo C'è lei che è messa Malissimo proprio Cioè Si, ne lo sa Anche per carità Però E che Raias E I miei muori Sono nei guai Fortissimo E che quella roba La brucia Sì, ne lo stimuore Dov'è Rai adesso Qua Benda non gli toglierà Ok Ok, hai tolto il burning Se non l'altro Qua che cavolo si fa No, se vado là Da poco Tutto No, qua c'è Deia nera Che anche Non è messa bene Che casino Che casino Vai con questo Che gli dà anche Bleeding Ha una buona Così E questo Riduce anche il morale Ma non è stato Sufficiente a spaventarlo Allora Lui è qua Muoverei qua Sul sangue Per essere sicuro Più che altro Ma lei può curare Ok Ha tolto Burning Burned Molto bene E Chi rimane Ma c'è Bestia E quello Dovrebbe riuscire A farlo Fuori No Quegli altri Sono in fiamma Per cui non farei Altro Ehm Ehm Ma lui Dovrei togliere La Le fiamme Ma Bye Bye Oh Dovrei approfittarne con Julia Di queste situazioni in cui sono tutti in mezzo alle fiamme Ma sono lontani da me Ahia No c'ho Julia C'ho il tizio addosso Julia Cavolo Allora Sino rossi ripiglia il coso Bravissimo Così adesso puoi tornare qua Dagli un bel colpo in faccia Allora Julia tu Andresti qua Bravissima Ottimo Tutto fatto da Julia Tutti seccati da Julia Delle bende abbiamo usato Ok Speriamo Ma è un atto di gentilezza È una guerra civile Sinceramente Eh no infatti Andrei con la seconda Un atto di gentilezza Non forza la gente A versare del sangue Allora spero che la mia crudeltà Verrà Ricompensata con dolcezza La gentilezza è ofteno Rewarded Con la crudeltà E' una fine cosa Spero che l'opposizione sia vero D'accordo Raia Dimmi di cosa hai bisogno Oh bene Voglio un gatto da coccolano Va bene Un sacco di roba Tra cui Un sacco di medicine Abbiamo dei punti Non spesi Ah c'è un puntizio Eeeh Ma io direi Che ci salutiamo qua Vi bevete come al solito Lasciate un mi piace E iscrivetevi al canale Se per caso non si è già fatto Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao a tutti E buona giornata